Sì, eccoci qua. Ma è uno scatolo gigante. Mamma mia, ecco questa roba qua. Guardate, ma questa è una televisione. È una televisione. Alzala un po' qui sulla sedia. Guardate cosa è arrivato per posta. Ma questo è un televisore. Apriamolo. Prendi subito un coltello, vai. Apriamolo. Sai pure chi lo manda tu. Ma non mi hai detto niente. Ma ha fatto veramente, ragazzi, ha fatto veramente un bleff. Da stamattina, perché lei non è andata a lavoro oggi. Avete capito? Stava a casa. Quindi è arrivato il corriere e lo ha preso lei. Non l'ho preso io perché lei stava a casa. Non ha lavorato oggi. E allora ha preso lei il pacco e non mi ha detto niente. Bella sorpresa. Mamma mia. Prima in apagrindere. Mamma mia. E chi l'ha fatto questo regalo? Ma questo è un monitor o è un televisore? A me dallo scatolo. A me dallo scatolo LGE dovrebbe essere un televisore. Metti giù, metti giù. No, al contrario, così. Così. Mettilo a terra, mettilo a terra. No, non ti preoccupare. Lo dobbiamo togliere dalla scatola. Topolina. Alza, alza. Attenzione. Poggialo sulla sedia. Togli questo. Oh. No, no. Questo lo puoi togliere. Togliamo questo affare di torno. Mamma mia. Ma è un televisore. Bellissimo. Mamma mia. C'è un biglietto pure. Vediamo. Questo è chi lo manda. Chi lo regala. Chi lo regala? Al nostro conduttore preferito e alla moglie Maddalena. A Gianni con amore, Topolina, Arturo e Chris Forever. Mamma mia. Topolina, Arturo e Chris Forever. Ma che regala. Alza un po' di là. Facciamolo vedere. Mamma mia. Guardate quanto è bella. È una televisione. Quella a muro. Bellissima. Bella, 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 bella. Mamma mia. Come sono contento. Grazie di cuore. Riprendi lo scatolo. Rimettiamola dentro. No, no, non ti preoccupare. Mettiamo nello scatolo. Scusate. Li mettiamo piano piano, piano piano. Lascialo stare pure qua, tranquillamente. Mamma mia. Chi se lo aspettava? C'è Topolina, Arturo e Chris Forever. Ma che avete combinato? Aspetta un attimo che ritorniamo nello studio regolarmente. Ecco qua. Cioè, ma che avete combinato? E tu non mi hai detto niente da stamattina. Ma mi eravamo già di Topolina. Ah, era un complotto con Topolina. Chris Forever e Arturo. Dovevo fare questo stesso. Mamma mia, bellissima. Ma ci fosse perché io non li vengo. Cioè, forse per te non è bello. Ma chi se ne frega? E chi è più bella la televisione? Bella, bella, bella. La metteremo in camera e da letto che non c'è la televisione. Bella. Topolina, Arturo, Chris Forever. Con tutto il cuore. Un bacio a tutti e grazie. Dal profondo del cuore. Grazie, grazie, grazie. Topolina, Arturo e Chris Forever.